Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, primo video di un'intera serie che farò su un argomento che ritengo essenziale per la sopravvivenza e per il progresso del genere umano, e sto parlando delle figure retoriche. La figura retorica che introdurrò oggi è la sineddoche, che consiste nella sostituzione tra due termini in relazione quantitativa, quindi sostituiamo la parte con il tutto o viceversa. Ecco, quando si parla di figure retoriche si pensa alla poesia, un linguaggio alto poetico, in realtà sono, diciamo, è un tipo di linguaggio che noi in realtà usiamo tutti i giorni, quindi nel nostro linguaggio di tutti i giorni siamo tutti un po' oratori e poeti. Facciamo un esempio. Allora, la parte per il tutto, quindi quando noi diciamo, per esempio, tetti al posto delle case, oppure mura al posto di dire casa. Oppure, per esempio, quando noi diciamo lo scafo tagliava l'onda del mare, che ne so, ecco, lo scafo è soltanto una parte della nave, quindi noi usiamo una sineddoche. Invece di dire la nave tagliava l'onda è lo scafo che taglia l'onda. Il tutto per la parte è quando noi, diciamo, per esempio, il mio cugino in vacanze è andato in America, in California. Ecco, invece di dire l'America, come si sa, l'America del nord e l'America del sud, quindi il continente americano. Però noi, appunto, utilizziamo una sineddoche e diciamo America per dire Stati Uniti. Oppure diciamo, per esempio, che ne so, Eminem è un rapper americano. In realtà, noi dovremmo dire Eminem è un rapper statunitense, quindi noi utilizziamo il tutto americano per la parte. Oppure un altro esempio può essere di sineddoche è quando noi usiamo il genere invece che la specie. Quindi, noi diciamo, il felino ha aggredito il visitatore incauto dello zoo. Ecco, invece di dire la tigre ha aggredito, in generale diciamo il felino. Ultimo esempio, il numero determinato per l'indeterminato. Allora, quando noi diciamo mille saluti, mille braci, mille baci, mille abbracci, invece di dire tanti saluti, tanti braci, tanti abbracci. Scusate, ancora una, il contrario, quindi l'indeterminato per il determinato, invece di dire il libro ebbe sei ristampe, oppure il libro vendette 128.146 copie, ecco noi, senza neanche saperlo, utilizziamo una sineddoche e diciamo il libro ebbe innumerevoli ristampe, il libro vendette innumerevoli, numerosissime copie. Bene, penso di aver fatto un servizio al genere umano con questo video, ne farò altri e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e alla prossima!